Amici di Studio 90 Italia, chissà quanti ragazzi, anche adulti, saranno contenti in questo momento perché siamo qui con il bello e bravo Ricky. Ciao! Grazie, grazie mille. Lo sappiamo entrambi, no? Lo sappiamo entrambi? Di che cosa? Sappiamo entrambi che comunque Ricky è fantastico, è fortissimo, si è esibito già al Festival di Sanremo questa prima esibizione che ti ha fatto emozionare tanto, immagino. Molto, moltissimo, mi trovava la mano a un certo punto, non riuscivo a controllare l'emozione, però sono riuscito anche a incanalare tutta questa emozione in una concentrazione, che fa pure rima, però la verità, per arrivare anche meglio alle persone, perché l'emozione da sola non basta, ero molto concentrato, paradossalmente quando ho preso il centro del palco, ho spento tutto e ho detto via, si parla. Era anche il tuo compleanno, mi hai detto prima. Che incredibile, perché è una coincidenza assurda. Cosa ti aspetti da questo dopo Festival di Sanremo? Io spero di poter arrivare a più persone possibile, emozionarmi, per poi creare qualcosa, anche a livello empatico, un qualcosa di superiore addirittura rispetto a quello che avevo già fatto nel 2017 e nel 2018, perché avevo fatto artista più venduto dell'anno nel 2017, un tour tutto sold out nel 2018, poi sono sparito per qualche tempo per andare in Sud America e quindi spero di riallacciarmi a tantissime persone che magari mi seguivano, ora mi hanno un po' perso di vista e magari a altre persone nuove. Come è andata in Sud America? Molto bene, è stata anche molto difficile, devo dire. Lì non è facile, è un'altra cultura, devo parlare un'altra lingua, fare interviste magari in radio, in televisione, e trovandosi catapultati a parlare davvero una lingua che avevo imparato da poco, in 5, 4, 5 mesi, è stata una bella prova, però sta andando molto bene, continua ad andare bene, stiamo curando anche delle altre collaborazioni future, insomma vediamo però bene. Dal palco di Amici, poi al palco di Sanremo, hai sentito Maria? Te l'avranno chiesto in tanti, immagino. No, no, è la prima volta, no, no, è la prima volta, perché Maria mi ha scritto poco prima dell'esibizione, mi fa in bocca al lupo, spacca tutto, quindi... e poi è andata, perché veramente 5 minuti prima mi ha scritto. Quindi benissimo, noi adesso facciamo il tifo per Riki, ma soprattutto non solo per il Festival di Sanremo, ma affinché la tua musica vada sempre più avanti, e il tuo cuore soprattutto, perché l'emozione c'è, ma l'emozione che si trasforma in energia. Esatto, brava, esattamente quello, guarda, ti direi esattamente come hai detto tu. Io ringrazio Riki, ringrazio gli amici di Studio 90 Italia, e ringrazio te soprattutto. Ciao Studio 90 Italia, grandi, 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 seguitemi. Grazie davvero.